Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Apriamo con la A11 dove ci sono code in uscita a Montecatini in direzione Pisa. Sulla A12 code a tratti per lavori in direzione Livorno tra Sarzana e Carrara. Ci spostiamo sulla Fipili dove per lavori ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Lastra Assigna in direzione Firenze e tra Empoli ed Empoli Ovest in direzione Mare. In direzione Firenze è anche chiusa l'entrata di Livorno per lavori. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori di manutenzione restringimento di carreggiata dal chilometro 47 al chilometro 50. Sulla Statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Buonversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!